Per quanto riguarda Toir, ci sono stati aggiornamenti negli ultimi giorni? Toir, il fronte indonesiano oppure ancora nessuno? No, anche lì si fa, sì no, avanti viene la cosa, mi sembra che ci sia buona volontà da tutte e due le parti per fare qualcosa di positivo per l'Inter e vediamo che sia qualcosa di positivo per l'Inter. A fine luglio probabilmente arriverà qualche notizia su questo fronte? Non lo so, non glielo so dire.